Stamattina a Roma si è giocata la partita della parità e del rispetto. Fabrizio Tumbarello. Parità e rispetto sono due parole importanti. Il calcio, lo sport possono fare molto. Magari non saranno capaci di cambiare il mondo, ma possono dirci e possono inviarci un messaggio di come il mondo può essere cambiato, perché il calcio non è soltanto uno sport, è molto molto di più. Per dire basta alla violenza e tenere accesa la luce sui diritti, si è svolta a Roma la partita della parità e del rispetto contro tutte le guerre. Lo sport è un veicolo molto importante e soprattutto gli sportivi lo sono, perché comunque hanno visibilità e danno una voce e io credo sia giusto che la usino. I valori dello sport sono importantissimi, bisogna metterli in pratica e possono fare la differenza. Nella giornata mondiale del vivere insieme in pace si sono affrontate la squadra del circolo sportivo RAI e la rappresentativa One World, composta da calciatori e calciatrici provenienti dai luoghi di crisi e conflitti. Vengo da Città Saporizia, sto partecipando a questa partita contro la guerra, non solo in Ucraina, ma per tutte le guerre che adesso ci sono nell'altro paese. L'iniziativa è stata promossa da Amnesty International, Asso Calciatori, Asso Atleti, Usigrai e Wisp. Passiamo in campo con tante amiche, con tanti amici a promuovere quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale, il diritto alla vita, il diritto alla pace.